È paradossale che l'Aggiunta regionale prima promuova e si adoperi per far approvare una norma in consiglio, poi quando l'Assemblea la trasforma in legge nella finanziaria 2018, l'esecutivo nel ritardo di lato azione. Quanto denuncia in una nota, Gavino Carta, segretario regionale della CISL, che rileva come si tratta di un ritardo che rischia di far finire sulla strada senza lavoro 102 operatori della formazione professionale. Oltre quattro mesi fa, infatti, l'Assemblea regionale, con la legge di stabilità 2018, ha messo al riparo un grave errore dell'assolato del lavoro, che nel 2014 aveva ingiustamente escluso 102 docenti amministrativi aventi diritto del settore della formazione professionale dall'inserimento nella lista speciale per la ricollocazione, ricorda il segretario Carta. Un diritto riconosciuto dal TAR Sardegna, che con alcune sentenze ha annullato gli effetti delle determinazioni prese dall'Aggiunta nel 2014. Il Consiglio regionale, per sanare l'iniziale errore dell'amministrazione regionale, continua il leader della CISL, ha approvato nella finanziaria 2018 una norma apposita che ripristina il diritto a far parte della lista speciale dei 102 lavoratori, oggi in gravi difficoltà, spiega il segretario regionale della CISL. Alcuni di questi operatori, infatti, licenziati dagli enti di appartenenza, sopravvivono con ammortizzatori sociali in scadenza, altri ancora oggi in precaria situazione economica e al rischio di perdere il lavoro, a causa della crisi registrata ormai da anni dal comparto della formazione professionale in Sardegna. Il parlato sale, conclude il segretario Carta, che la Regione Sardegna ha un atto di quei provvedimenti che pure ha promosso, voluto e approvato in Consiglio regionale. La CISL è pronta ad attivare in tutte le sedi preposte le necessarie azioni sindacali e legali a tutela dei diritti dei lavoratori interessati.